La diretta del 14 novembre del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, si apre con il focolaio scoppiata a causa del Covid-19, di fatti nei giorni scorsi sono stati trovati quattro concorrenti positivi. Attilio Ormita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Patrizia Rossetti. Fortunatamente la loro condizione di salute non è preoccupante e anche durante la diretta i quattro viponi intervenuti dal loro hotel hanno sottolineato che stanno bene. Approfittando di questa disavventura, il direttore del settimanale Key Magazine ha voluto ribadire nuovamente l'importanza dei vaccini. Finalmente prendono parola i quattro protagonisti, Patrizia Rossetti, rivela di stare bene e ha avuto solamente un po' di raffreddore. Lo stesso è per Charlie e soprattutto Luca, in cui sottolinea il fatto che non abbia avuto nessun sintomo. L'unico a star patendo ancora il virus è Attilio Ormita, affermando di star prendendo molte pillole e che sarebbe tuttora ancora febbricitante. Il conduttore ci viene comunque a rivelare di non voler dare la colpa a nessuno dei concorrenti, poiché questa caccia alle streghe sarebbe solamente dannosa.